Giocate per divertirvi! E' questo il consiglio che Super Pippo Inzaghi ha voluto dare ai giovani under 14 che hanno dato vita al torneo giovanile del Memorial Pinotti. La settima edizione della manifestazione organizzata in memoria dello storico preparatore dei portieri biancorossi si è tenuta al centro sportivo di quarto, sede dell'Academy Moretti. Come da tradizione hanno partecipato tanti ex del Piacenza Calcio, il più acclamato è stato proprio Inzaghi, poi padrone di casa Daniele Moretti, Gigi Cagni, Dario Hubner, Giampiero Piovani e Massimo Taibi che sono stati protagonisti di un triangolare tra Vecchie Glory, ragazzi della Curva Nord del Piacenza e Academy Moretti. Bello spettacolo anche il torneo giovanile riservato agli under 14, vinto dalla Cremonese in finale contro il Brescia. L'Academy Moretti ha conquistato un onorevole terzo posto battendo il Sassuolo. Una vetrina per i talenti del domani e per i ragazzi del Moro che nella sua academy ha attualmente oltre 120 giovani e squadra di tutte le categorie dalla Scuola Calcio all'Under 16.